Sono il Luca del futuro che ieri ha festeggiato a San Siro, tra poco vi lascerò il video, come vedete sono tutto gustionato e tutto il resto, ma sono qui per dirvi sia di lasciare un like e di iscrivervi al canale, ma soprattutto che questo video è sempre in collaborazione con 11 calcio, la maglietta degli azzurri o comunque di tutte le nazionali non può mancare, dovete comprare assolutamente, link qua sotto in descrizione, ma cosa più importante, con codice sconto Luca avrete il 15% di sconto, ma ascoltatemi bene, c'è il gruppo Tele sempre di 11 calcio, qua sotto in descrizione, dove stanno per estrarre un contest dove metteranno in palio 5 magliette, basta iscriversi al gruppo Telegram il 7 giugno alle ore 16, ci sarà l'estrazione e in bocca al lupo a tutti coloro che parteciperanno, non vi costa nulla entrate nel gruppo Telegram, altrimenti 11 calcio, link in descrizione, codice sconto Luca e prepariamoci agli europei, buoni festeggiamenti, amala! Allora, buongiorno, iniziare i video così improvvisamente metropolitano non mi piace mai in mezzo alla gente, però è il giorno dello scudetto, mentre da una parte c'è una Milano che carica per entrare in Champions League, qua c'è un po' di gente che sta andando a festeggiare in tricolore, quindi niente, vi porto con me in questo tricolore fuori da San Siro, insieme a loro e a mano! Buongiorno, inizia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.